I beni per un valore di un milione di euro sono stati confiscati da personale del commissariato della Polizia di Stato di Siderno. I beni sono riconducibili per l'accusa a Vittorio Barranca, attualmente detenuto e ritenuto un elemento di spicco delle cosche dell'Andrangheta di Caolonia, al quale è stato notificato un provvedimento di sorveglianza speciale per tre anni. Tra i beni confiscati figurano un villino a Siderno intestato alla moglie di Barranca, la società Allen Caffè, di cui è socio a comandatario la donna, la società Mimosa Fiori, di cui è socio il figlio di Barranca, Nicola, la società Oliver Geste, con sede da Anghiarri in provincia di Arezzo, di cui è socio lo stesso Nicola Barranca, che gestisce un albergo con centro congressi, bar, ristorante e pizzeria nella località toscana, la società Allen Caffè della figlia di Barranca, Alessandra. Vittorio Barranca era stato sottoposto a fermo, poi trasformato in un'ordinanza di custodia cautelare in carcere il 10 luglio del 2010 dalla DDA di Reggio Calabria, nell'ambito dell'operazione crimine prodotta tra Calabria e Lombardia, con l'arresto di oltre 300 persone. Due tonnellate e mezzo di botti illegali sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palmi. I militari hanno individuato il materiale in due distinti locali. A Danoia, a casa di un ventottenne, sono stati trovati centinaia di chili di petardi vari ed in particolari fuochi d'artificio di quarto e quinto categoria che l'uomo conservava, pur essendo sprovvisto di qualsiasi autorizzazione. Inoltre sono state trovate delle cipolle, veri e propri ordini esplosivi a basso potenziale. A Danoia, invece, in un negozio di alimentari, il proprietario vendeva senza nulla osta fuochi d'artificio. In un deposito di proprietà dell'uomo di 39 anni, i finanzieri hanno poi scoperto oltre due tonnellate di materiale esplodente, fuochi d'artificio, petardi, candele, fontane luminose, bombe carta artigianali. Tutto il materiale era conservato in condizioni di estremo pericolo che, secondo i finanzieri, avrebbero potuto provocare forti esplosioni, mettendo a rischio l'incolumità delle persone nel raggio di centinaia di metri. E due quintali di botti illegali sono stati sequestrati invece a crotoni dai carabinieri che hanno denunciato una persona per commercio abusivo di materiale esplodente. I militari, durante un servizio di controllo, hanno intercettato un furgone carico di fuochi pirotecnici, di cui 120 kg classificati come materiale esplodente e pericoloso, che sarebbero dovuti essere distribuite a venditori abusivi. Tutta la merce è stata sequestrata per essere successivamente distrutta in sicurezza. Il centro operativo DIA di Reggio Calabria nel 2011 ha provveduto al sequestro di beni per 162 milioni di euro e dalla confisca di beni per 55 milioni di euro. Sono alcuni dei dati dell'attività svolta, resi noti dal capo centro Gianfranco Ardizzone. Tra i principali sequestri operati, la DIA il 17 ottobre, su disposizione delle tribunali di Roma, ha messo in sigilia beni per 110 milioni di euro riconducibili a Federico Marcaccini, imprenditore operante nel settore immobiliare e ambientale delle commerci e di autovetture, già sottoposto a provvedimento di fermo nel 2010, su disposizione della DIA di Catanzaro, nei confronti di 77 soggetti indagati per traffico internazionale di stupefacenti nell'ambito dell'operazione overloading. Altri 46 milioni sono stati confiscati a maggio a Salvatore Domenico Tassone, al quale è stata applicata la sorveglianza speciale di Polizia di Stato per 4 anni, mentre beni per 20 milioni sono stati sequestrati nello stesso mese a Ferdinando Fortunato Maria De Marte, imprenditore della Piana di Gioia Tauro, tra i più noti produttori oleari della regione con interessi estesi al settore immobiliare. Beni per 30 milioni, inoltre sono stati sequestrati ad agosto a Marcello Fondacaro, già condannato nel 2001 a 7 anni di reclusione per associazione mafiosa, in quanto ritenuto affiliato alla cosca Piromalli Mole di Gioia Tauro e sorvegliato speciale. È stato annullato a San Giovanni in Fiore il capodanno in piazza, previsto per la notte del 31 di dicembre a causa del gravissimo lutto che ha colpito la città silana. A darne notizia è una nota diffusa dall'amministrazione comunale che interviene all'indomani dei funerali dei cinque giovani morti dell'incidente stradale avvenuto nella notte di Natale. Ringraziamo tutti coloro, ha affermato il sindaco Antonio Barile, che si sono messi a disposizione e che hanno lavorato in questa triste occasione. Abbiamo unito le forze e siamo riusciti tutti a rendere un buon servizio. Ringrazio a nome dell'amministrazione e delle famiglie coinvolte in questa enorme tragedia, tutte le istituzioni, le associazioni, i singoli cittadini e anche i tanti emigrati che in ogni modo ci hanno inviato messaggi di cordoglio. Ringrazio tutti coloro che a vario titolo hanno voluto offrire il proprio contributo e partecipare a questo lutto che è di tutta la città e ha dimostrato nel dolore il suo senso di appartenenza. Sarà difficile, forse impossibile, consolare il pianto delle quattro madri, dei padri e dei fratelli e sorelle di queste cinque vite spezzate nelle fiore della gioventù. Noi però, come comunità sangiovannese, possiamo e dobbiamo dimostrare loro amore fraterno e affetto duraturo. Non dimenticheremo mai queste famiglie che saranno da ora in poi anche le nostre famiglie, di tutti i sangiovannesi. Intanto l'assessore comunale alla cultura, Giovanni Iaquinta, ha commentato la decisione di annullare la festa in piazza di Capodanno. È una scelta che ci costa molto, ha affermato, proprio per la bontà di sperimentare nella nostra città e in realtà una festa così è aperta a tutti. Ma il dolore per i nostri giovani scomparsi così prematuramente ci impone di pensare innanzitutto alla dramma che tutti insieme stiamo vivendo, rispetto al quale nessuna manifestazione può servire a rendere meno forte il dolore. Chiedo scusa a tutti, ma siamo convinti che non sarà difficile comprendere la scelta fatta.